Continua la triste serie di furti nei luoghi sacri della provincia di Sondrio che si stanno registrando ormai senza tregua da alcuni mesi. Questa volta ad essere stata presa di mira è la chiesa di San Rocco a Livigno dove sono state rubate almeno dieci statuine di legno. La mancanza dei soggetti sacri dal tabernacolo è stata scoperta mercoledì 9 dicembre da alcuni fedeli che hanno immediatamente segnalato l'accaduto al parroco Don Giuseppe Longhini che lo ha denunciato ai carabinieri di Tirano. Secondo quanto emerso i soliti ignoti sarebbero entrati nella chiesa durante il giorno visto che la notte è chiusa ed approfittando dell'assenza dei fedeli hanno fatto man bassa di una decina di sculture raffiguranti angeli e santi risalenti al periodo del 1600 presenti alle spalle dell'altare proprio nel tabernacolo. Pezzi di fattura pregevole e grande valore soprattutto affettivo per i cittadini del piccolo Tibet. L'ipotesi più probabile, spiegano i militari del centro aduano, è che il furto si sia verificato nei primi giorni di dicembre ma attualmente sono in fase di valutazione tutti gli elementi utili per risalire al giorno esatto e ai responsabili del furto.